Ben trovati a tutti da parte di Marco Fabriani, questo è il periodo del fisco, della denuncia dei redditi, del precompilato, del 730 precompilato e noi ne parliamo con un esperto, ve lo presento subito, il dottor Roberto Bonomo che è presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, ben trovato nei nostri studi. Allora iniziamo subito parlando di questo 730 precompilato, insomma sta andando avanti oramai da anni, ci si sta abituando? Sì, sta andando avanti oramai da anni, diciamo dal governo Renzi, quindi già sono un paio d'anni che sicuramente ha portato dei benefici in termini di gettito fiscale e anche in termini proprio di tempistica con la quale insomma il contribuente riesce ad avere contezza anche di quanto poi è chiamato avversare, di quanto poi è chiamato in realtà in quanto viene rimborsato ovvero trattenuto con la busta paga. Ecco Presidente, se c'è un errore all'interno si può modificare online? Sì, si può modificare, diciamo che dallo scorso 15 aprile si può accedere alla propria dichiarazione al proprio 730 precompilato, dal 2 maggio è possibile effettuare quindi delle parziali modifiche a quello che già risulta all'amministrazione finanziaria e dal 10 maggio scorso invece è possibile direttamente proprio inviare il modello in sé. La denuncia dei redditi, quella classica cartacea ancora continua? Diciamo che è possibile ancora effettuarla attraverso l'ausilio chiaramente di un dottore commercialista piuttosto che di un CAF e quindi come tempistica però occorre ricordare sicuramente la scadenza del 730 precompilato che è prossima diciamo al, che è quella del 23 luglio. è possibile altresì dallo scorso 28 maggio annullare la dichiarazione precompilata insomma nel caso in cui si volessero correggere degli errori che insomma il contribuente ha riconosciuto sulla sua area personale. E questo è importante, giugno è anche il mese dell'acconto IMU e Tasi, la scadenza è fissata per lunedì 17. Esattamente, lunedì 17 i contribuenti sono chiamati al versamento dell'acconto dell'IMU e della Tasi, quest'anno in particolare per quanto riguarda il versamento complessivo IMU e Tasi ricordiamo che la legge di bilancio 2019 ha previsto la possibilità per i comuni di eventualmente adeguare, innalzare quelle che sono le aliquote. Ecco Presidente, una domanda da cittadino, qualora uno dovesse dimenticare il pagamento dell'IMU e della Tasi, diciamo l'acconto. Sì, è possibile con l'istituto del ravvenimento operoso versare la mancata imposta e poi chiaramente sulla base del periodo in cui il contribuente... Ecco, ci si può mettere in regola comunque. Ci si può mettere assolutamente in regola e ricordiamo in particolare che per quanto riguarda Roma è prevista un'aliquota diciamo sulle abitazioni principali soltanto di lusso, poiché ricordiamo che è prevista l'esenzione per le abitazioni principali sia per l'IMU che per la Tasi. Allora, io direi di fermarci qui con queste notizie che sono importanti. Ci ritroveremo tra qualche giorno perché poi cercheremo anche di parlare di un altro argomento che è importante che è quello del reddito di cittadinanza, soprattutto della documentazione, il famoso ISEE che va compilato con serietà perché altrimenti si rischia anche penalmente. Grazie a Roberto Bonomo, lo ricordo che è presidente dell'Unione Giovani, dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma. Grazie presidente per essere stato qui con noi, un grazie a voi tutti da Marco Fabriani.